Ciao, 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 ciao volete venire con i miei suoi capelli? con un braccio solo? intanto mi sono già premonita di spazzola ho lavato i miei capelli e li ho rilasciati e li ha lasciato mano un pochino di tempo in modo che si assorbisi tutta l'acqua ho lavato un po' più giù scusate a fettinarli nonostante che abbia già fatto i trattamenti ho deciso di mettermi anche questo prodotto nuovo nonostante che abbia già fatto i trattamenti atto era portata grazie ogni ma non dic ok adesso come faremo ad assaggiarli? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.